Buongiorno Filippo Diodovic dalla sala operativa di EG di Milano. Dopo il lungo ponte delle vacanze pasquali riaprono i mercati europei. Oggi l'appuntamento più importante è l'audizione del governatore della Federal Reserve, Janet Yellen, all'Economic Club di New York. Forte attesa quindi per le parole del numero uno della Fed per capire la dinamica del rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Al momento vi è ancora tanta incertezza tra gli operatori sulle tempistiche del prossimo incremento del costo del denaro negli States. I buoni dati macroeconomici statunitensi lasciano pensare a un rialzo imminente, meeting di giugno, ma le condizioni economiche deboli in Asia e Europa potrebbero ritardare la scelta e quindi nella riunione del FOMC di settembre. In Italia i riflettori sono ancora puntati sulle banche, ancora in ribasso Banco Popolare nonostante le forti perdite di venerdì. In controtendenza Banca Carigie sulla scia dell'offerta del Fondo Stato Unite in Sapollo. Sul mercato valutario l'euro-dollaro è in leggero rialzo e si sta avvicinando ai massimi di ieri a 1,1220. Sopra tale riferimento via libera verso il prossimo target a 1,1260. Attenzione tuttavia che il discorso della Yellen potrebbe cambiare le carte in tavola e portare a forti movimenti sul dollaro e l'eventuale cedimento del supporto a 1,1170 per l'euro-dollaro preluderebbe a una discesa in direzione di 1,1150 e 1,11. Con questo è proprio tutto. Buon training!